donna congè donna congè scusate il fastidio avete uno spicchio d'aglio alla tua padrona manca sempre qualche cosa e scusate tanto devo cucinare spaghetti aglio e olio la mia passione sono si caspita sono spaghetti al dente ben salati aglio e olio e peperoncino ci vuole pure il peperoncino e si capisce sennò di che sanno figlia mia e io il peperoncino non lo tengo e va buono ti servo puro peperoncino grazie tanto voi siete tanto buone il spaghetti è pieno sì quelli sì che diavolo uh forse l'olio non mi basta e ce lo fai abbastare così ce lo fai abbastare mi fa pare certe figure la mia padrona ecco dell'aglio e il peperoncino e di alla tua padrona che queste cose in cucina non devono mai mancare ma io glielo dico sempre ma quella da questo orecchio non ci sente e tu glielo fai sentire dall'altro che simpaticone che siete lì ci vengo sempre con piacere da voi anche per sapere qualche cosa della figlia di don pasquale del nipote di don raffaele voi ve li tomate e fate bene fate bene quelli adesso si trovano nella situazione di giulietta e romeo oggi vengono vengono sì vengono eh vengono ma perché non ti fai fatto tuoi io non voglio sapere niente non so niente io sono casorelle pilato me ne lavo le mani e me le vado a lavare veramente perché puzzano d'aglio allora abbiamo detto aglio olio e mezzo peperoncino e così spaghetti sempre al dente e saporiti di sale grazie tanto che simpaticone bello 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 che gente